Se il suo pronunzionero ti sei appena svegliato, c'è una nonnina davanti a te Marco iniziamo la partita a fantasia Sei appena stato farmato a piedi ubriaco in centro a Bergamo dalla polizia Buonasera, documenti? Se fai 5 o 6 ti salvi Grazie Kovetz Ti sei svegliato? Scegli il tuo nome Settentrione Ti sei svegliato Settentrione Ciao Dove siamo? Non mi ricordo Stiamo andando a San Pietroburgo Ah ok, cosa stiamo andando a fare a San Pietroburgo? Niente, dobbiamo semplicemente fottere tutti i soldi di sto treno Merda Sì Ma tu quindi hai tutto il piano eccetera Perché io sinceramente non ti so aiutare sotto questo punto di vista Ma se sei il mio partner Oh, penso di aver ricevuto una brutta botta in testa No, controlla il tuo inventario Controlla l'inventario Hai 12 pistole Porca troia Una borsa Un borsone palesemente per mettere i soldi dentro E due maschere Due maschere Sette pistole e due maschere Sì, una passa a montagna e l'altra è di... L'amico stronzo di Arlecchino Pantalone No, l'altro Pulcinella Sì Mi hai sbloccato Pantalone Però grazie Di niente Grazie Quelle escezioni che hai visto Era questo personaggio che io avevo studiato Ma che era oscurato dai miei ricordi Mi hai detto Pantalone ed eccoci qua Di niente Di niente L'hai completato Hai fatto un bellissimo sorriso E poi no, l'altro Perché ti sei proprio ricordato che Pantalone era amico Anche lui Va bene, va bene Hai sbloccato un achievement Ora è diventata la maschera di Pantalone Possiamo vedere il costume di Pantalone Sì, sì Vado a vedere Pantalone immediatamente Pantalone Commedia dell'arte Eccolo qua Era un bravo Pantalone Pantalone era un vecchietto molto burbero Era un qualsiasi personaggio di Assassin's Creed O del nuovo soul L'Eyes of P Vabbè Allora Da dove iniziamo? Dal vagone B o dal vagone C? Vorrei andare al vagone B Andiamo Impugno una pistola Ma la nascondo Mascondo una pistola Davanti a voi c'è l'alcarillino Dolce o salato o piccante? Piccante Ecco lei Io ho niente, grazie No, sta arrivando, è lontana Merda, per andare alla C dobbiamo passare da là Va bene Va bene, io non penso che sia un problema, no? Eh no, però Voglio sbrigarmi Voglio sbrigarmi Eh quindi che idea propone? Ma non è le sparo Le sparo in faccia No, non sparare perché poi diventa un casino Come si carica la pistola? Eh, non te lo ricordo adesso Prima ti convinco che non devi sparare Non devi sparare Si carica premendo qui? Si No Eh, ha sparato un colpo Tutti, tutti Tutti nel vagone soggiali Porca madonna Tranquilli Se lanci sei Ti inventi una scusa perfetta Per non Per non fargli vedere Capire che Quattro Che cazzo siete? Chi è? Chi è stato? Tranquilli A salve Eh, c'è un puttuso sopra di te Sta cadendo un po' di polvere di legno Chi è stato a sparare? Mi giro verso di lei Ma non la incolpo Chi? Ah, la vecchina Ah, oh, oh Ha ancora la pistola in mano Nascondi quella cazzo di pistola Eh, chiamo il capotreno Ci sta andando Aspetta Ti prego non chiamare il capotreno Perché? Perché Forse potresti 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 essere convinta Dalle parole di questa vecchina Comprala Dico la vecchina Cosa devo comprare? La sua fedeltà Potrebbe gioinare nella gang Eh, mi dia Tutti i dolci Tutti i dolci Allora, non capisci un cazzo però Non si fa così Stai continuando Signori, devo andare a chiamare il capotreno Non posso perdere tempo Qualcuno ha sparato Ed è qui dentro Va bene Appunto la pistola Le dico Non ti muovere Tutti quanti Gritano C'è la nonna Se c'è qualcuno che vuole morire E succederà Non funziona così E stanno continuando a urlare Eh, no La vecchina Ci penso io Ne ha ammazzato uno Ma stiamo scherzando Mio figlio Parla ancora e avrai un buco Un buco nella testa Vabbè, spara pure a lei Perché la sua vita La sua vita è finita Sono cagati tutti addosso Bro, è il panico più totale Allora io diplomaticamente dico Adesso voi non dovete andare da nessuna parte Ne dovete urlare Altrimenti vi spariamo nella faccia Sì, l'avevano capito Va bene E ammanetta tutti Ok, ok Ha preso un bambino E gli ha messo le manette Dentro i buchi Va bene Tutti Vuoi dare un consiglio su come fare? Eh, sì Le faccio vedere un tutorial da YouTube Come ammanettare Siete nel 1848 1848 Sì, queste pistole sono grosse Sono tipo una specie di strane cose Ok E le dico Devi ammanettare così Ammanetto un altro bambino Moriremo E se non fai arrabbiare la vecchina Sì E io gli ha dato un colpo di calcio nella testa Hai capito bimbo? Basta non dire più niente Non dire più niente Mio papà vi sconfiggerebbe a voi cattivi Chi è tuo papà? Il capotreno Oh merda Sì Ok, allora vieni con noi E gli dico la vecchina Ti prego Adesso tu prendi in custodia il bambino Sì Perché è un bellissimo modo Non lo uccidere Perché se lui muore Non lo uccidere Non so contro la mia forza Sono vecchia È un po' strana questa frase Non uccidere il bambino Perché il nostro lascia passare per lasciare il vagone Facciamo così Io adesso sto qua a fare A stare con gli ostaggi Tu vai al capotreno e gli dici What for? Cosa gli dico? What for? Cioè? Chi hai del business Vuoi soldi? Dici Tutti i soldi di questo treno Va bene, va bene Rimani con gli ostaggi E stai vicino al bambino Prendi la borsa Prendo la borsa Hai la borsa attiva Voglio due pistole adesso Visto che ne ho sette Così Hai due pistole E la borsa ce l'hai qui La nonna fa Adesso mettete tutti i soldi In questa cazzo di borsa Al gente vi spariamo Va bene Io la ignoro e vado avanti C'è Adesso è un gioco di carisma Devi convincere gente a mettere i soldi nella borsa La prima è una mamma Avete ucciso mio figlio Non abbiamo ucciso soltanto il bambino E abbiamo ammazzato la madre del bambino Eh questo è un altro bambino che lei ha ammazzato Tu non l'hai visto Ah non l'ho visto Signora Per favore Non mi faccia diventare cattivo come quella bambina Non ho più niente da perdere Sì che ce l'ha I soldi Me li dia Cosa sono i soldi senza una mamma? Mi dia i soldi Ok Hai convinto la mamma Ok Hai preso mille dollari Perfetto Vai avanti C'è un sordo Sta godendo il viaggio Non ha notato nulla Nulla di quello che è successo Gli punto la pistola addosso Pensa che sia un giocattolo Ok Sparo Così Sparo Lui non sente niente Ma non ha visto la scintilla della pistola Cazzo Ok Lo faccio vedere Faccio vedere le angherie che la vecchina fa con gli altri ostaggi La vecchina fa Ma che cazzo fa? È sordo e non riesco a fargli capire che deve dare i soldi nella borsa Ma prendegli e basta Ok prova a prendergli Gli hai preso 50 dollari È tutto quello che ha? Sì A posto Li metto là e lo ammanetto Passo al prossimo Ti guarda un po' strano Si ho visto C'è un C'è una bambina Ok Non mi farete male vero? Se mi dai tutti i soldi che hai no Ho una richiesta Cioè? Puoi uccidere mio padre Cosa? Dov'è tuo padre? È andato in bagno Sta per tornare Se io uccido tuo padre Mi dai tutti i soldi del cadavere di tuo padre I tuoi soldi? Tutti 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 Per favore Uccidere mio padre Ma perché deve uccidere tuo padre? Mi incula Ogni Giorno Lo farò Ammazzare il mio padre Ammazzare il mio padre Va bene Lo farò Ok Sto tornando nuovo dal bagno Sei il padre della bambina? Dipende che tipo di padre Prendo la pistola e gliela punto sulla testa Oh cazzo È vero che stupri tua figlia? Il nostro è un amore Gli sparo in testa Gli sparo in testa Dico alla bambina Adesso prendi i soldi E Dalli alla vecchina Cioè la bambina che sta andando Gli sta abbassando i pantoni al papà E rascondendo la pistola? No, 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 no Lui un giorno mi ha detto Che semmai trovo il suo cadavere Dovrò fare la sua ultima volta No, esatto No, no Non completare la frase Prendi soltanto i soldi Altrimenti ti sparo Non voglio essere sparo E allora prendi soltanto i soldi Prendo i soldi Dai Hai preso i soldi Hai preso 500 dollari Ok, li metto nella sacca Con il resto Ok, c'è l'altro vagone Vedi l'ontranza L'ontranza Nelle finestre dei vagoni Che sta ritornando La dizia là Degli snack Col capitano Oh merda Del capotreno Capotreno Che diventa del capitano All'occorrenza Va bene Stanno arrivando Però loro non mi hanno visto Ok, apro la porta Prima di loro E poi me la chiudo Da dietro E rimango qua fermo Nelle vagone Degli ostaggi Sì No, no, no Con la tipa Lo stesso e il capotreno Ma se non lo vedei Ok Questo è uno dei complici Prendo la pistola E gli dico È vero Mani in alto Hai 100 pistole Puntate verso di te Ma non ero Soltanto col capotreno Eh sì Se ti guardi fuori Alle finestre Vedi gente con i cavalli Che ti sta In movimento Sì Alla stessa riuscita Il treno Ti stanno puntando Quindi se mi siedo Se mi siedo Una meravigliosa immagine Quindi se io mi siedo a cavalcioni Non mi vedono dalla finestra Puoi provarci se vuoi Mi siedo a cavalcioni E lo stai continuando a mirare? Sì Porca madonna Ci ha fottuti Boh, va bene Se ne sono andati? Tutti Mi alzo E gli punto la pistola Hai veramente fatto andare via A tutta la gente Che avevo a disposizione Sei abile come assassino Ma come pistolero Ti sfida a duello Orchè Oddio La prima cosa che dico è Se lo fai un'altra volta E ti sparo E comunque la mia complice C'ha tuo figlio come ostaggio Come mio figlio? Sì No No, giochiamocelo A scarta forbice sasso Potresti insegnarmi come si gioca a scarta forbice sasso? Praticamente la carta non c'è Scusami Quindi faremo sempre sasso Perché le forbici No Non puoi fare forbice Perché no? Perché perdi sicuramente senza la carta No lo sai A meno che non fai pari Va bene Giochiamo Scarta forbice sasso Porco Dio Ma sei un'idiota Scarta forbice sasso Buttana la madonna Vabbè Scarta forbice sasso Scarta forbice sasso Scarta forbice sasso Scarta forbice sasso E' entrata la vecchietta Che cazzo succede? Stiamo giocando un attimo a scarta forbice sasso Si è messo come Dante del McGrath Mi sono divertito a giocare insieme a te Però adesso la vecchia ti spara Perché è molto più aggressivo Abbiamo un conto in sospeso Il capotreno alla vecchia? Si E adesso addio Cessi Apriamo un pulsante E il vostro vagone si è sganciato Con quello del capitano E dell'ostate Che stanno andando avanti Quindi noi siamo rimasti con gli ostaggi E l'aria furtiva In mezzo al deserto Ok però abbiamo tutti i soldi Si E non abbiamo più il capotreno No Si è fermato il vagone Ok abbiamo tutti i soldi Lei ha finito di fare l'aria furtiva Si Quanti soldi ci sono? Tu hai raccolto 1550 dollari Lei niente Stava mirando ai tizi Ah ok va bene Insieme a voi ci sono i cadaveri Un uomo ciccione La bambina Che è seduta sopra il papà Nell'auto del pisello Poi abbiamo Sparo alla bambina Hai sparato Vuoi sparare alla bambina? Si Se fai da tre in su La becchi in piena faccia Da quattro in su scusa Due Quelle due Ehi Ma come cazzo hai fatto? Tu come che cazzo spari? Ti devi allontanare Dal cadavere di tuo padre In qualche modo Mi manca sai Ok Prendo il cadavere del padre E lo butto fuori Ehm Se fai 5 o 6 Hai la forza per farlo E' un bel cadaverone Non ce l'hai fatta E ti sei un po' Slocato la manica Vabbè Ehm La vecchietta dice Io muoio di caldo Se sto nel deserto Non voglio morire Hai saurito le munizioni Delle pistole Ne abbiamo altre 6 no? Posso chiederti una cosa? Com'è Com'è esattamente Una manica slogata? Così Ok Va bene Ehm Continuo A dire alla signora Che deve darsi Una cazzo di calmata Scusami Nipote Ah Siamo Siamo nonna e nipote? Non lo sapevo Va bene Dobbiamo trovare Un posto per Accamparci E vabbè Allora usciamo dal vagone E lo andiamo a cercare Vedi Se usciva il vagone C'è l'uomo grosso Io con i criminali Non ci sto Puh Ti ha spottato le scarpe Gli punto la pistola addosso A debita distanza Così non mi Becco un altro ceffone E quindi Cosa dovrei fare? Alzare le mani? Che ne dici di questi? Gli dico Ma non ha senso Quello che fai Perché ti sparo In questa maniera Grazie panevino Grazie Ciao Potresti salutare Gli amici di Monfalcone? Ah ciao Mario Ciao A Monfalcone? Sì Ciao ciao panevino Grazie mille Io sono Rischio Raschio Piacere Non ti stringo la mano Perché mi ha appena Mandato a fanculo E lo rifaccio Eh Rischio Raschio Vivo la mia vita al limite Rischio Raschio E vuoi far parte Della mia gang? Quello che cazzo vuoi Basta che si rischia Un bordello Beh stiamo rischiando Tantissimo noi Eh ce l'ha una linda che Rischio Raschio Sembra attraente Peccato che non mi funziona Dalla volva in su Niente E andiamo a cercare un posto dove accamparci Avrei trovato una piccola cavernicola Ok Vado dentro Una piccola cavernicola Una piccola donna Delle caverne Ok allora Pensavo Pensavo No non voglio andare dentro la cavernicola Volevo entrare dentro una caverna E noi siamo dei fuggitivi Siamo degli assassini E rubiamo i soldi Io sono cavernicola del Cruzcat Del Cruzcat? Sì Ci troviamo in Cruzcat Ah siamo in Cruzcat qui? Sì Ha una mini clava Che ha sbattuto fortissimo Nel terreno Senza un polverone Come se fosse un aereo bro È fortissima Sì Allora Che ci fate qui? E vorremmo trovare un posto Per passare la notte E poi di giorno Ce ne andiamo con l'area furtiva Che abbiamo rubato Se volete C'è la mia tribù I Cuschettiani Ok Portaci dei Cuschettiani Venite Sta correndo così Però è lentissima E anche le gambe piccole Io cammino normalmente La seguo Aspettami Sono davanti a lei Ok Camminare piano Vado più piano Che lei fa l'aprifila Ok Dopo 14 giorni Siete arrivati Alla tribù dei Cuschettiani Benvenuti A Cruzcat Non era Cuschett Cuschett Siete tutti affamati E avete sedissima E non dormite da un sacco Vorremmo mangiare Bere e dormire Per favore Minchia Manco sei arrivato Porco Dio E va bene E andate a parlare Con gli altri Cuschettiani Aspetto diligentemente Pazientemente C'è il cicciolo Che diamo di 15 chili Come hai fatto? Non mangiamo 15 giorni Buttana Dio Però dal nulla Dimagrisci Di 15 mesi Di 15 mesi Stai con 14 giorni Non sa mangiare un cazzo Stronzo Ma scusa Ma siete tutti a bestemmiare In questo cazzo di posto Non lo so Bestemmiate tutti Tu bambina bestemmi Mio padre mi dice Ah sempre Mai bestemmiare Perché Dio c'ha dato i nostri corpi Con cui fare la morte No 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 Non ho capito Tu non devi più parlare Di quello che diceva tuo padre Mi è rimasto impresso Eh ok E anche un po' di Ti metto Ti metto una pallottola in fronte Se continui Hai capito bambina? Io ho detto Rischio raschio Rischio raschio Allora Secondo te Una bella cruzchettiana Riesco a mettermela Dentro il mio cazzo E' il tuo cazzo Che entra dentro La cruzchettiana Secondo me Sono abbastanza piccole Ehm Facciamo Facciamo così Rischio raschio Tu vai a cercare Delle donne Maggiorenni Per favore Certo E Io e la vecchina Cerchiamo di imbonirci Il villaggio Va bene La vecchina è Rachidichissima Ma sei dimagrita? Ma non sei Non sei Non sei più parlare? Date subito Del cibo Alla vecchina E' arrivata E' arrivata Un banchetto La cruzchettiana Siete da bella I stessi di tutti Siete tu La bambina Rischio raschio La vecchietta E Basta Ok Controllo la mia fisionomia Io sono dello stesso peso Tu sei come te Come Mario Ok ok E Comincio a mangiare A bere Stai mangiando Stai bevendo Vi stai veramente Rifacendo Cioè la nonna E' tornata Prima Perfetto E poi Porco Dio Adesso l'unica cosa Di cui abbiamo bisogno E' dormire Sì Ci potete dare Una stanza comune Per tutti e quattro Per favore Ma perché noi abbiamo Letti molto piccoli Ok Allora Accatastate tanti letti Ma Noi addio Sta accatastando Ma prima Vi faccio conoscere Il gigante Merda Merda E' il cruzgettiano Più grande di noi Fammi vedere Siamo andati C'è un tempio A cruzgett Sto cantando tutti i monaci A cruzgett Dico a tutti i salve A cruzgett Bisogna parlare Stronza Ok Mentre loro Continuano a cantare Io Mi metto accanto a loro E mi mostro Molto rispettoso E chiedo a rischio raschio Alla bambina E alla vecchia Di fare lo stesso Io non faccio Un cazzo per gli altri Faccio solamente Le cose per me Mi faccio A rischio raschio che si incazza qual è il coro a Cruzquette a Cruzquette c'è una bella crocchetta per te perché non te la metti nella bocca stronzo tutti quanti lo sto marcando così gli dico che è il tuo amico di smetterla lo spacchiamo smettila rischio raschio smettila immediatamente ok si è tolto l'Antoni e ha cagato su una piccola statua di quello che è probabilmente il cavo dei Cruzquettiani ora basta all'attacco ci sono 20 Cruzquettiani che stanno facendo sia Cruzquette nelle caviglie non gli fanno niente a rischio raschio perché l'hai chiamato Cruzquette a rischio raschio sì non gli stanno facendo niente sta guardando te questa è la vita come immaginavo che fosse con mille stronzi mi picchiano non mi fanno niente ok possiamo andare a dormire adesso prima conosciamo il capo dei Cruzquettiani ah il gigante il gigante dove sta sto gigante siete entrati orco dio siete in questo tempio bro è una stanza è una stanza come questa qua per loro è un tempio giusto posti molto piccoli inchinati con un solo ginocchio mi inchino con un solo ginocchio devi stare con il tipo sul ginocchio chiedo al rischio raschio di fare lo stesso e di non inginocchiarsi con due ginocchi per provocazione è caduto tutto il corpo ho messo per te speriamo non sia una big gigante sta uscendo una parte di sangue è worth it potete curare gli schioraschi o monaci no è uno stronzo vabbè dove è sto gigante è uscito un bambino poco più alto di tutti gli altri Cruzquettiani e quando la cammina fa con la bocca yo 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 fuckers I'm the Cruzquettian king sa parlare solo inglese in più slang stupidi chiedo al rischio raschio di sfidarlo in un duello fisico per vedere effettivamente se è soltanto un bambino o un reale gigante a livello di forza magari certo gli ha chiamato lo schiaffo del che ha dato a me si si l'ha chiamato a muro si è spiaccicato al muro è probabilmente morto vado a controllare il nostro vado a controllare se è morto ha un po' di polso ha un po' di polso dico a tutti è vivo è vivo è vivo adesso lo curiamo ma che cazzo ci stava invadendo no 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 impressione no 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 punto la pistola rischio raschio io non sono con questa persona invece lo è come mio amico batti 5 amico vedi che ti sparo in testa rischio raschio in ginocchia di immediatamente spara spara non voglio spararti rischio raschio va bene allora dico ragazzi calmatevi perché il vostro re c'è il re che sta dico a tutti c'è la bambina secondo te no 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 c'è la vegetale che cazzo che vuoi fate gli affari tuoi pure tu solo l'erba monocromatica può salvarmi di qual'erba stai parlando l'erba monocromatica e come si assume tramite fumarla wow posso saperne di più certo lontano nella landa dei lupi c'è un luogo di purezza innaturale e in mezzo al fiume più brutto nasce lei l'erba monocromatica solo fumando la potrò guarire non solo da questo male da voi provocato porco dio ma dal mio nanismo va bene allora voglio andare nella landa dei lupi a cercare l'erba monocromatica si è nella landa dei lupi si è pure rischio la bambina e la vecchia ok ma secondo voi se racconto che ho 18 anni mi trombano non voglio più sentire parlare di sesso per favore scusatemi è che mio papà mi ha lasciato un bel colpo basta basta parlare ti ho proprio chiesto allora che si fa in questa landa spariamo a tutti i cervi no no anche perché ho scrittato un bellissimo esemplare di giraffa mi sta guardando da sopra salve cosa cazzo ridi allora è una giraffa altissima è azzurra è lucente è questo manto bellissimo stellato quasi cosa ride cosa ride se attenzione mio nipote è un coglione mi fanno ridere le giraffe da sempre piacere ti sto dando lo zocco parentesi giraffa come è possibile che una giraffa parli parentesi giraffa io fumo erba monocromatica da un sacco di anni e ho imparato a parlare merda ma questa erba monocromatica è incredibile o forse perché vivo con gli umani da un sacco di tempo ah ma da quanti anni hai 14 hai 14 anni si e io sono la guardiana dell'erba monocromatica posso chiederti una cosa chiedi pure mai solo una domanda e risponderò col vero o falso se lo riterrò necessario e se è la landa dei lupi cosa ci fa una giraffa qui i lupi sono i nostri nemici e dobbiamo proteggere l'erba monocromatica dal loro tentato omicidio se loro dovessero fumare l'erba monocromatica è possibile che otterranno il loro desiderio più desiderato ok camminare a due zampe saremmo nella merda come me direi anche io cerco guarda porco dio è caduto all'inniere cazzo sei rimessa sei rimessa ok allora facciamo così ti propongo questo patto questa è la mia gang yo yeah oh a te capite chi ha fatto cosa c'è una persona che non ha parlato è rischio raschio vero no tre persone la bambina la vecchia rischio raschio la vecchia ah vero 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 ok posso cavalcarti giraffona non rispondere alla bambina giraffone io amo le bambine no ho detto che non devi parlarle altrimenti l'accordo ma io andavo sempre allo zoo e amavo le giraffe sei una bambina carina quanti anni hai quanti anni mi dai allora cosa hai se mi spavore smettiamola di parlarne vabbè allora giraffa giraffa monocro giraffa giraffa come ti chiami parentesi giraffa parentesi giraffa è il nome completo sì noi ti difendiamo dai lupi per una notte intera non penso ce la fareste i lupi sono malvaggi e completamente carnivori se mangiano pure fra di loro sanno troppo fame ce l'hanno sempre senza di noi allora come fai guarda qui si è girato e ha un muzzitune in tuo buco di cura potresti per favore parlare in italiano se no capisco soltanto io ha un mosso dove c'è il buco di cura che manca come nella pubblicità della mente che mordono la mele in quel perfetto modo ok ok è stato un lupo ti sto chiedendo come fai a difendere puntualmente ogni notte la landa dei lupi dai lupi io gioco con la luce faccio vedere che tipo sono molto più grande e mi proietto negli alberi poi faccio e i lupi si cagliano addosso ma ho paura che un giorno capiranno il trucco faccio ruore oh merda penso che tu debba fare quel trucco la parentesi giraffa vuoi dare nel nel cespuglio cosa c'è? mando la bambina vai la vuoi dire vai la vai la contro la ma ora se c'è un lupo magari è il lupo di di cappuccetto rosso eh vai a vedere mi immaginavo furri ma vediamo che succede vai a vedere è andata la eccomi allora c'era un lupo ok era bocca aperta e se n'è scappato via no ha sentito il trucco del di me il mio trucco ho sentito ma di quale trucco stai parlando? di quello della luce ora siamo in pericolo verranno ad attaccarci la bocca era aperta per lo stupore si oh merda allora hai bisogno per forza di noi adesso vieni vieni con me eh no io vengo soltanto se mi dai l'erba monocromatica dovete proteggermi dai lupi se tu non mi dai l'erba monocromatica adesso io ti pianto qua sei un bastardo dammi l'erba monocromatica e voi proteggetemi dai lupi tu mi dai l'erba monocromatica e noi ti difendiamo dai lupi come? come mi proteggetemi? non avete neanche un esercito? abbiamo sette pistole siamo in quattro vuol dire che possiamo ma sono un branco di lupi velocissimi non abbiamo altro c'è la vecchietta ma possiamo chiedere ai cuschettiani se possono aiutarci merda vero vado dai cuschettiani ma possiamo convincerli solo se portiamo l'erba monocromatica quindi tu porti l'erba monocromatica al villaggio dei cuschettiani e poi torniamo alla landa dei lupi per difenderti dai lupi c'è la bambina anche perché quando fumeranno l'erba monocromatica diventeranno grandi è capaci di devi stare zitta è capaci di fiondarti devi stare zitta un pugno meno male pensavo meglio dentro la fica mamma mia possiamo andare dai cuschettiani e basta io vi darò l'erba monocromatica ma dovete promettermi che non mi fottete perché io sono un esemplare rarissimo e se muoio è finita per la natura ok sono uno dei quattro animali sacris va bene parentesi giraffa adesso andiamo dai cuschettiani venite con me devo prima darvi l'erba monocromatica sei nella città dei giraffoidi ci sono tutti quanti hai presente quei neri che si sono messi i anelli qua per farsi allungare il collo sono tutti quelli là uè ciao 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 guarda cosa vi avevo portato non ci avete niente parentesi giraffa non li conosci ma è il nostro sindaco sono il loro capo ok fatti dare ho un'orribile ho un'orribile notizia è una buonissima giraffoidi quale volevi sentire brutta 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 uno alla volta dio porco brutta ok iniziamo dalla brutta i lupi stanno per attaccarci oh mio dio no state calme state calme tu invece cosa vuoi sapere quella brutta ho appena detto che i lupi stanno per attaccarci non è impossibile no 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 tu quella cosa bella brutta basta l'ho già raccontata c'è la bella ok la bella la bella la bella la bella questi giovani eroi ci aiuteranno con un esercito vero l'avete detto si se non è così vi ammazziamo porco dio veniremo a uccidervi tranquilli anche se non siamo così forti cioè i lupi ci spaccano nel culo questi qua l'unico arma l'unico acciaio che hanno per diventare come me sono degli stronzi tranquilli va bene venite sei una presente la cassaforte di zio paperone si certo c'è quella cosa là adesso metto il codice non sbirciate è un codice che nessuno può immaginare mi copro gli occhi e mentre copro gli occhi guardo se i miei commiglidoni fanno lo stesso cioè rischio raschio sta rimanendo così lo sapevo rischio raschio per favore non rischio raschiare si è corta si ha premuto solo l'uno enter nessuno immagina che è solo un numero ne ha almeno pensato tre o quattro stronzi li fottiamo a tutti è uscito un sacco di fuori a voi l'erba monocromatica c'è una teca ha tolto il vetro c'è il più bel cannone di erba che tu abbia mai visto tanto è ora io vado dai gruschettiani e poi torno qua e vi difendo dai lupi c'è stato un po' uno shift nel tuo nel tuo ti ha messo uno zoccolo solo la spalla quella che è la tua responsabilità è altissima quindi non perdere l'erba monocromatica non mi devi toccare scusami i miei amici giraffodi siamo molto tattili fra di noi vabbè come mio padre quando ero vivo a mi no per favore non lo dire non lo dire non lo dire e sparo la bambina se fai 6 la becchi ma chi cazzo è gogo con ultra istinto no è che è una bambina è molto peggio che spararla ho fatto uno allora non solo l'hai l'hai schivata il proiettile l'hai rimbalzato in un modo che ha colpito una pistola dentro la tua borsa e l'hai dato da lei oh dammi la pistola ok vado con la mia gang vado con la mia gang vuoi che resto qua mi sono sempre voluto fottere qualcuno che avesse la gola più lunga delle altre io ho un cazzo enorme se voi se voi continuate a parlare di sesso io vi ammazzo tutti io sono un uomo e sono grande non me ne frega niente vabbè io rimango qui vado con la bambina e la vecchia al villaggio e lascio rischio raschio nella landa ok a presto sbrigatevi stanotte lupi torneranno è pomeriggio alle 6 sei nella terra dei cruzchettiani oh siete arrivati cioè stanno sventolando l'aria al gigante accendo il cannone di erba i primi diri li faccio io bro ti ha sballato subito sei nel mondo delle fiabbe sei un po' barcollante oh merda anch'io 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 la passo al gigante tieni no no sono la bambina dai no no prima al gigante no no prima al gigante vabbè prima al gigante gigante fuma la stanno passando a tutti i cruzchettiani ma che sta succedendo eh siete stonati siete stonati siete stonati forse diventano molti grandi senti un'energia nell'aria sono rimasti come prima minchia troppo alto sei diventato non pare pure tu siete alti come prima no no siamo altissimi minchia oh merda i piedi sono lontanissimi sentite visto che abbiamo sono anche un gigante sì visto che abbiamo salvato il gigante ci date un tesoro inestimabile e togliamo il disturbo il nostro rispetto no no parlo di soldi non chiedergli questo dobbiamo anche chiedergli di combattere contro i lupi no non hai capito non voglio andare non voglio tornare alla landa ma rischio raschio l'abbiamo chiamato bastonano godo come godo godo vaffanculo rischio raschio andiamo a casa e come eh a piedi ok andiamo a piedi ragazzi un sacco di grazie per averci fatto fumare l'erba mauromatica grazie 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 vabbè non c'è bisogno di finire questi grazie 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 andiamo veramente che c'è un mal di reso è tutto stonato grazie per favore per favore mi ricorda il ritmo della trombata no vabbè provo a sparare alla bambina fai sei ma prendi tre grazie 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 posso tentare di sparare alla bambina di nuovo hai l'ultimo colpo due niente ok stai camminando la bambina e la vecchia verso una destinazione ignota è not ci sono i gufi ah ok c'è freddino se ci fosse qualcuno che mi stringe visto che c'è freddo do un calcio alla bambina aia basta parlare la nonna vedi che comunque io e lei è troppo piccolo sono un po' adulta moriremo con questo freddo eh vabbè se solo avessimo una pelliccia di lupo pelliccia di lupo eh abbiamo pistole andiamo a spaccare il culo a quei mammiferi torno torno ad ai cruschettiani siete ai cruschettiani bro sono stonati oltre ogni ragione sono sono femmina no non sei femmina presente maschio non sei femmina porco dio troppo bello sono stonati il silvio oh guarda il nostro amico grazie 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 ci sono qualcuno che lo dice se ho il vostro se ho il vostro rispetto andiamo andiamo dalla giraffa parentesi giraffa e salviamoli dai lupi che cazzo hanno fatto i lupi stavolta i lupi vogliono mangiare l'erba monocromatica faccio un misco a due lupo quanti sono quanti sono non lo sappiamo va bene stanno c'è il corno di guerra della città lo stanno suonando tutti quanti cruzchettiani sono tutti stonati andiamo andiamo c'è l'esercito mille cruzchettiani c'è il gigante allora c'è il suo mio vecchio c'è il suo bene stanno facendo tutti quanti ragazzi allora non ci capisco niente quindi quello che dico dico ci sono i lupi che stanno di senti parla tu che ho dato un microfono non c'è niente scusami siamo nel 1860 hai detto eh ma loro sono i visionari sciamani va bene ascoltate tutti sono stonato pure io e quello che dovete fare se vogliamo fumare altraverlo monocromatica e battere i lupi perché se i lupi non vengono battuti si mangiano l'erba monocromatica e noi non ci stoniamo più nooo e allora andate a spaccargli il culo ai lupi stanno vomitando ma stanno andando andiamo stanno iniziando a combattere con niente stanno distruggendo tutto dal loro gambino basta che andate dai lupi figlioli stanno andando c'è questa forza motrice di cruz che andate piccoli si stavano distruggendo tutto basta che incontrate i lupi e gli spacca vuole eseguirli si si eseguendo siete nella città dei giraffoidi benvenuti oh porco dio c'è questo esercito che sta arrivando tranquilli sono ragazzi se continuate a rompere tutto non fumate più non fumate più hanno superato il villaggio dei giraffoidi distruggendolo sono andati nella landa dei lupi oh porco dio ragazzi stanno hanno ucciso tutto tutti tutti i lupi sono morti tutti i giraffoni sono morti tranne la giraffa la giraffa è tornata c'è il gigante che lo sta guardando possiamo fumare la giraffa vi sta guardando con un terribile sguardo andate via ora non possiamo andare via se non fumiamo dov'è l'erba monocromatica ma lo sai tu non sei il guardiano il sito ve l'ho data a voi non c'è altra era l'unica quanti diri avete fatto ce la siamo fumata tutta non la vuoi fare ricrescere è andata nell'albero in un albero vicino si è rotta l'estero e è morto mi giro verso i cruschettiani compari non ho capito niente di quello che è successo nemmeno io non ne abbiamo più comunque ci rischio raschio è messo in salomaso allora dove la mia giraffa vabbè non può dirmi di no sta trombando il cadavere della giraffa gli sparo hai sparato due volte la giraffa le hai presa sparo si a rischio ok devi fare 6 ma che pistola è inutile no ma sono gli tuoi alleati il gioco te lo vieta uno non solo l'hai mancato gli hai un po' sfiorato la prostata del culo e l'hai fatto eccitare tantissimo oh merda grazie vabbè mi giro e non l'ho ascolto c'è la bambina che stava dicono ok decido di abbandonare decido di abbandonare tutta la mia gang e va bene veniamo con te minchia ok possiamo ci sono i cruschettiani che si sono inchinati allo stesso ospetto ne shalam è stata veramente una cosa guarda io sono sicuro e domani mi sveglio non capisco un cazzo grazie 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 hip hip hurra hip hip hurra vuoi andartene si ed è così che la mistica gang di settentrione la nonnina rischio raschio una bambina veramente eccitata lasciarono la landa dei cruschettiani quale altra avventura gli aspetta il cammino non si sa comunque sia cazzi loro parte 1 finita titolo di questo gioco qua il treno dei ricordi grazie di shalam il discorso della guerra penso che sia una delle più divertenti fantasiate che abbia mai fatto mi ha completamente massavrato il cervello percato ci sarebbe divertito tantissimo porca troia grazie a tutti Grazie per la visione!